Avevo saltato praticamente ieri sera delle pettine di maiale, no? Io come le salto le pettine al maiale? Le salto praticamente mettendo un po' di origano Le faccio macerare prima direttamente nel succo di limone Poi ieri sera sono avanzate Ne sono avanzate 5-6 Oggi che ho fatto? Il ragazzo non si è mangiato il latte L'ho preso e ce l'ho messo sopra E ora le sto facendo cucinare Poi che cosa ho trovato sul tavolo? Ho trovato praticamente Un pezzo di formaggio delle terre cretesi L'ho fatto a fette e ce l'ho spammato sopra Vediamo praticamente Vediamo che dice il mio ragazzo Su questa pitanza Che ho improntato lì per lì Oh, non mettete il burro Perché il maiale va ben dissodato E praticamente va presa solo la carneletta Perché il grasso fa male Per l'ho spettacolo la carneletta